Ciao, sono Maddalena e sono una rigger. Ciao, sono Daniele e sono una 3D Animator. Lavoriamo entrambe a Game in Lab di Ganshi a Roma. Mi piace fare i rig perché sono una persona abbastanza precisa e ordinata, quindi mi piace avere tutto sotto controllo. Io invece ho scelto di fare animazione perché mi piace comunque farli citare i personaggi e renderli vivi e realistici. Il mio lavoro consiste nel realizzare uno scheletro da inserire in un modello. Una volta realizzato il primo file, lo riposta a Daniele, così può cominciare a fare i suoi timi check. Da qui inizia il mio lavoro, dove appunto testo il rig passato da Maddalena e iniziamo a lavorare a stretto contatto per arrivare al rig definitivo dove poi inizieranno le vere e proprie animazioni e mi divertirò a giocare con il file che mi passerà e creare le animazioni della videoslot. In generale io preferisco animare i caratter e insieme a Maddalena abbiamo collaborato alla prossima videoslot dove il tema è Far West. Il caratter che mi è piaciuto di più è quello della gatta, che appunto è il primo caratter femminile che riesco ad animare qui in Ganshee e la cosa bella è che comunque essendo un gatto, che io adoro, posso realizzare movimenti sinuosi e accattivanti. A me personalmente piace molto rigare gli oggetti di scena perché posso spaziare nella fantasia per quanto possa farlo nel mio lavoro e mettere la prova in stessa. Io lavoro a Ganshee perché così posso dare libero sfogo alla mia creatività perché tutte le animazioni le creo io dall'inizio. Lavorare qui a Ganshee significa per me ricevere ogni giorno uno stimolo diverso da un ambiente piacevole. Mi permette di fare quello che più amo. Se vi è piaciuto il video lasciate un commento qui sotto. Il nostro processo cativo ancora non è finito. Rimanete collegati per scoprire i nuovi video di One Day at Ganshee. Vi aspettiamo. Se vi è piaciuto il video lasciate un commento qui sotto. Vi è piaciuto il video lasciate un commento qui sotto.